Tu morirai come i Pacciani e il suo amico, il grande medico Narducci. Era un nostro servo ma ha tradito ed è finito nel lago Trasimeno. Presto anche per te arriveranno le tenebre di Satana, puttana. Questa è l'unica telefonata che sono riuscita a registrare, ma le altre erano molto simili. Da quanto tempo vanno avanti queste telefonate? Mesi. Ormai ogni volta che squille il telefono salto sulla sedia. Senta, chi è questo dottor Narducci? Le giuro che non lo so. È la prima volta che lo sento nominare. Parlano anche di Pacciani? Sì, lo nominano sempre. Non è il mostro di Firenze? Già. Uno dei mostri, sì. Senta, signora, lei ha qualche legame con quella storia, con Firenze? No, no, nessuno. Capisco. Ma qualche altro dettaglio che vuoi raggiungere? Beh, ecco, altre volte ne ho detto chiaramente di essere una setta. Una setta satanica. E che il loro gran sacerdote si troverebbe al beato Alano. La cripta di Sassovivo? Sì. Ma le assicuro che non ci ho mai messo piede in vita mia. Va bene, signora. Cercheremo di fare il possibile. Grazie a tutti.